Buonasera da Onda Tg, in primo piano subito la notizia del giorno, situazione ingestibile al comune d'Introdacqua, disavanzo di amministrazione pari a 618 mila euro, il sindaco Terenzio Dicenzo getta la spugna stamane le dimissioni. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Un disavanzo di cassa che ammonta circa 618 mila euro e una serie di atti giudiziari di recupero crediti che stanno arrivando in municipio. La difficile situazione economico-finanziaria del comune d'Introdacqua ha spinto questa mattina il sindaco Terenzio Dicenzo a rassegnare le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Che il comune d'Introdacqua non stesse poi passando un buon periodo sotto il profilo economico è noto a tutti, ma oggi Dicenzo ha deciso di gettare la spugna. È una situazione ingestibile. Esordito a caldo il sindaco dimissionario, abbiamo una carenza di personale che si va ad aggiungere al deficit finanziario. Sono arrivando anche una serie di decreti ingiuntivi di recupero crediti in forza del disavanzo che mi hanno fatto maturare questa scelta. Introdacqua peraltro è arrivata a sfiorare anche il dissesto finanziario con il disavanzo di amministrazione che nel conto di gestione 2017 ammontava a meno 618.382,34 euro a fronte di un avanzo di cassa di circa 358.000 euro del 2016. La situazione drammatica rincara Mariano Silvestri, consigliere di minoranza. Noi come gruppo abbiamo esercitato sempre la nostra azione di controllo. È un fatto gravissimo che un sindaco si dimetta per questo motivo. Da oggi scattano i 20 giorni previsti della legge, entro i quali il sindaco Dicenzo, che resta nel pieno delle sue funzioni, ha la possibilità di decidere se tornare sui suoi passi o far decorrere i termini, aprendo le porte al commissariamento e al conseguente ritorno alle urne. Dicenzo è stato eletto nel maggio 2015 e lascia dopo tre anni, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto. Al momento non sembrano esserci dei margini di recupero, ma in politica si sa che tutto è possibile. Fra poco ascolteremo anche le prime reazioni delle piazze e dei quartieri di Introdac. Ora cambiamo argomento. Opere e strade provinciali raggi X. La provincia chiede 78 milioni di euro al Ministero, dentro anche la Sannite e la Frentana. La provincia dell'Aquila chiede circa 78 milioni di euro per la manutenzione delle opere di competenza. Il 31 agosto scorso l'ente ha trasmesso le risultanze delle verifiche al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, stabilendo le maggiori criticità e le somme necessarie per stabilire le condizioni ottimali in termini di sicurezza e percorribilità delle carrabili. Ringrazio i tecnici, dichiaro il Presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, per il lavoro effettuato in tempi ristrettissimi. Oggi abbiamo un quadro generale delle principali emergenze, dovute soprattutto ai tagli operati sulle province, che purtroppo non hanno avuto la possibilità, negli ultimi anni, di poter provvedere a una manutenzione programmata. L'amministrazione ha avviato, dal suo insediamento, un processo di monitoraggio e sistemazione delle carrabili, con criteri di priorità, grazie al riferimento di somme provenienti principalmente dal masterplan della Regione Abruzzo, ma è evidente che il Governo dovrà trasferire alle province maggiori risorse per garantire ai cittadini condizioni di percorribilità di queste strade in totale sicurezza. L'auspicio è che il lavoro sia finalizzato a raggiungimento di questo obiettivo. Nell'elenco c'è la strada regionale 479 Sannite che necessita di lavori di messa in sicurezza della caduta Massi, realizzazioni di gallerie artificiali, consolidamento di ponti e muri di consolidamento per un importo complessivo di circa 13 milioni e 400 mila euro. Ma anche la strada provinciale 12 Frentana per lavori di messa in sicurezza della caduta Massi, Slavine, realizzazione di gallerie artificiali, consolidamento di ponti e muri di consolidamento per un importo complessivo di circa 18 milioni e 300 mila euro. La strada provinciale 99 di Pettorano per il consolidamento delle versante in Frana per un importo complessivo di circa 200 mila euro. Per ora lato strade, progetto Toto riesumato da Castelvecchio su Bequo, bocciato ancora una volta da Sulmona. Facciamo il punto nel nostro servizio. Dalla tragedia del ponte di Genova alla resumazione del progetto Toto che viene grazie al sindaco di Castelvecchio su Bequo Pietro Salutari, un passaggio che non convince il primo cittadino di Sulmona, Maria Casini, che torna a ribadire la sua contrarietà. Il progetto mirerebbe a ridurre infatti di circa 30 chilometri il percorso autostradale, prevedendo la contestuale demolizione dei viadotti Pelinni per la messa in sicurezza e l'adeguamento dell'autostrada 24-25, con la contestuale realizzazione di altrettanti chilometri di nuove gallerie a doppia canna, che consentirebbero di accorciare l'autostrada 24-25, sforbiciando le zone piene di curve, trasformando un tracciato in un lungo rettilineo, ricorda Casini, avvertendo che non è questo, però, il salto nel futuro, che le nostre aree interne attendono da molto tempo, di cui parla il sindaco Salutari. Quest'enorme tunnel da Cerchio a Bussi avrebbe avuto come principale conseguenza l'eliminazione dei caselli di Pescina, Cocurlo e Prato-La Pelinni a Sulmona, e come unico risultato il risparmio di appena 10 miseri minuti tra Roma-Pescara, continuo il sindaco, prezzo pagato dai territori, uno scempio ambientale di aria ad alto rischio sismico, tanto che i geologi interpellati hanno illustrato i grandi rischi che comporterebbe realizzare tunnel e gallerie a ridosso delle principali faglie sismiche della nostra area, nonché ulteriore isolamento di intere comunità della Valle Pelinni, a Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro, imbedendo accessi al Parco Nazionale della Maiella e all'area industriale di Sulmona, già molto sofferente. Se l'avio a superficie non decolla, l'associazione chiama in causa direttamente il Premier Conte e il Ministro Salvini. Sentiamo nel nostro servizio. Nemo profeta in patria. Hanno deciso di alzare il tiro l'ex ufficiale della forestale Concezio D'Alessandro e il pilota Gianni Taglieri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione avio superficie Fabrizia Di Lorenzo, che nelle scorse settimane hanno sollecitato il Comune di Sulmona per prendere in seria considerazione l'ambizioso progetto, informando dell'evoluzione dei fatti anche la Prefettura dell'Aquila e la Procura della Repubblica di Sulmona. Ma da Palazzo San Francesco prendono ancora altro tempo, facendo sapere che dopo aver risolto la crisi politica si analizzerà lo stesso progetto. I due quindi hanno scritto direttamente al Premier Giuseppe Conte e anche ai Ministri Matteo Salvini e Sergio Costa. Proposte per l'attuazione del progetto sono arrivate da Prato La Peligna e da altri comuni del circondario. L'associazione interessa quindi i vertici nazionali, ritenendo che altro tempo non può più passare, visto che la Valle Peligna è una terra soggetta a calamità. Se è vero come è vero che detta avio superficie ha una valenza specifica, in primis per la pubblica utilità di uso pubblico. Allora andranno a espletare procedure d'urgenza per la sua fattibilità e correre a sprombattuto per evitare che eventuali e possibili disastri di sorta dovuti a calamità naturali generino eventi lottuosi, con successive indagini che la magistratura andrà ad operare, rilevandone le dirette responsabilità per il non operato, avvertono da Alessandro e Taglieri nella missiva spedita a Salvini. Entrambi rimarcono che è noto da tempo che il territorio peligno è caratterizzato da un elevatissimo grado sismico, così come gli altri comuni limitrofi, nonché particolarmente delicato a livello orografico, numerose aste fluviali e torrentizie degne di essere monitorate con successive opere di prevenzione e messe in sicurezza, sottende numerosi nuclei abitativi nella fascia bedemontana, opere vetuste di arterie stradali, ma c'è anche il pericolo per crolli di ponti autostradali e stradali, lincenti montani come quello del Morrone, da qui la richiesta al Governo di evocare a sé l'interesse per il progetto che, grazie alle istituzioni, non riesce a decollare. E ora le scuole sicure, nei MUSP fino ad ottobre, scuole in centro, avvia le verifiche del Comune, sull'ex liceo scientifico, sull'ex convento di Santa Caterina, un suono del campanella anche quest'anno ancora, nel patema d'animo. Facciamo il punto nel nostro servizio. MUSP in proroga, ma non fino alla fine dell'anno. Entro il 23 ottobre il Comune di Sulmona dovrà scegliere se indire una nuova gara d'appalto, tenendo conto del tempo risicato a disposizione, o valutare altri immobili ricadenti sul territorio comunale, dove trasferire gli alunni della Masciangeli e della Collodi, che il prossimo 10 settembre rientreranno nei moduli dell'ex caserma Cesare Battisti, ma solo per un breve periodo. L'amministrazione comunale, fra le altre cose, sta valutando rientro delle scuole in centro storico, anche per assecondare la volontà degli operatori commerciali della zona. Ma di tempo non ce n'è molto. Il suono della campanella anche quest'anno è accompagnato la preoccupazione patema d'animo con le famiglie che già hanno messo in guardia gli amministratori di palazzo. Se è vero che si sta pensando al monitoraggio di ponti e infrastrutture, il Comirato torna ad incalzare la politica per l'edilizia scolastica. D'altronde si tratta di una preoccupazione legittima, perché il 23 ottobre in fondo è dietro l'angolo, ma a gettare acqua sul fuoco ci pensa il vice sindaco e assessore comunale ai lavori pubblici Nicola Angelucci. Sicuramente il 23 ottobre non lasceremo i nostri ragazzi per strada, la sicura, spiegando che la proroga dal 10 settembre a quella data serve per permettere ai tecnici di eseguire le verifiche di sismicità e sicurezza, almeno su due immobili che il Comune sta pensando come soluzione alternativa, l'ex liceo scientifico e l'ex convento di Santa Caterina. Solo all'esilo delle verifiche stabiliremo il da farsi, ma entro questo lasso di tempo definiremo tutto, dando agli studenti una sede sicura, conclude Angelucci. Le scuole non trovano pace perché a questo punto si entra verso un altro trasloco, salvo una gara dell'ultimo minuto, che al momento non sembra essere la strada più percorribile. Come se non bastasse, anche quest'anno restano elevate le spese per il corredo scolastico, ci spiega tutto nel servizio Barbara Delle Morche. Settembre è tempo di inizio anno scolastico e tempo di spese, anche quest'anno le famiglie italiane dovranno affrontare spese elevate per l'acquisto di libri di testo e il corredo scolastico per i propri figli. L'Associazione Libra Italiana ha calcolato che i genitori spenderanno mediamente per le scuole medie 279 euro classe prima, 135 classe seconda, 140 classe terza, biegno superiori 302 euro classe prima e 161 classe seconda e triennio superiore 280 euro classe terza e 217 euro invece per la quarta e la quinta. Importo che comprende soltanto i libri di testo. Se vogliamo parlare invece del totale compreso della cancelleria e di tutto il materiale didattico, la cifra complessiva per ogni ragazzo è di circa 455 euro, vale a dire l'1,1% in meno rispetto allo scorso anno. Nella particolare classifica degli oggetti scolastici più costosi ci sono astucce e diari legati ai beniamini dei cartoni animati. Secondo le indagini condotte da Federconsumatori, le famiglie italiane per il corredo scolastico rispetto al 2017 riceveranno un incremento medio del più 2%, rincaro che raggiunge il più 4% per il materiale griffato, ossia le marche più richieste dei giovanissimi perché legate a squadre sportive, cartoni animati, bambole, personaggi e serie famosi. Oltre a calcolare quelle che sono le spese per la scuola che le famiglie italiane devono sostenere, le associazioni evidenziano anche quelle che sono le strategie per risparmiare sulle spese scolastiche. In alcuni casi è possibile abbattere i costi anche del 40% seguendo alcuni semplici consigli. In primis è consigliabile non seguire le mode acquistando prodotti di medesima qualità e quello dei marchi più famosi si possono abbattere le spese del 40%. Il materiale scolastico è possibile anche acquistarlo presso i grandi supermercati arrivando a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartoliberia, mentre rinviare gli acquisti a un momento successivo all'inizio delle scuole può significare altri notevoli risparmi. Infine raccomanda ancora il Codacons, spesso è utile attendere le indicazioni dei professori così da evitare acquisti superflui o carenti. E ora la sanitaria di logia al collasso, l'ASL attende in una ossa della regione per le nuove assunzioni, la UIL vigilerà. Qualora la situazione si protraesse, siamo pronti a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per la tutela dei lavoratori e dei cittadini. L'avvertimento all'ASL avezzano su Muna L'Aquila sulla carenza di personale vigente nel reparto di radiologia dell'ospedale di Sulmona. Arriva da segretario provinciale UIL FPL Marcello Ferretti e responsabile territoriale UIL Medici Mauro Gabrielli. Dall'azienda sanitaria hanno fatto sapere a sindacato che sono previste nuove assunzioni, ma tutto dipende dal nulla osta della regione. E notizia di qualche giorno fa la cancellazione di una ventina di esami fra tac e ecografie in forza dell'organico ridotto. La dotazione organica prevista è di 10 medici, attualmente prestano servizio soltanto 5 ed uno con orario ridotto. Tale situazione è aggravata dal fatto che il personale di radiologia, essendo esposto in maniera continua a radiazioni ionizzanti, deve astenersi per un periodo di 15 giorni, rischio radiologico, oltre al normale periodo di ferie. San citora il contratto, pertanto considerando le ferie estive, attualmente restano operativi soltanto tra i medici, ricorda la UIL, riferendo che dalla direzione aziendale ASL sappiamo che presto saranno chiamati diversi radiologi dalla gradatoria dell'avviso pubblico pubblicata nei giorni scorsi. Per lo scorrimento della gradatoria del concorso per medici radiologi a tempo indeterminato si attende il nulla osta della regione. La UIL ha già provenuto a comunicare che vigilerà su ripristino in tempi brevi della dotazione organica necessaria a garantire alti livelli di assistenza per i cittadini, nonché la sicurezza per la salute degli operatori in tempi brevi. E ora il pacco dei fondi del bimilenario ovidiano con la politica che spartisce le responsabilità. Sentiamo mail. Per il governo è troppo tardi, ma per il PD tutto si può ancora fare. Vesce nel braccio di ferro fra chi c'è e chi c'era al governo del paese, senza divenire per il momento una soluzione. Fatto sta che i fondi per la legge sull'anno ovidiano sono sempre più a rischio. Non che siano stati stanzialiti investivamente, nel momento che le annualità di riferimento sono il 2017 e il 2018, ma c'è chi continua a sperare. E' il caso degli imprenditori e della DMC Terre d'Amore, che non vuole vanificare il lavoro che c'è starò dietro. Forse è anche quello partito in ritardo, visto che da anni si parla di Firenze 2021, ma non è il nostro stile fare processo alle intenzioni. DMC e imprenditori vogliono pensare in positivo, chiedere una proroga e sperare che quei contributi arrivino a beneficio del territorio, ma la politica spartisce le responsabilità. Apprendiamo cosconcerto, dichiara Sergio Dante, segretario PD, del poco interesse, per non dire dell'avversione mostrata dal governo gialloverde nei confronti del bimelenario di Ovidio. Un atteggiamento incomprensibile che penalizza sul mona e l'intero territorio. Avvilente la posizione della senatrice pentastellata, Gabriella Di Girolamo, che a fronte dell'incapacità del nuovo esecutivo di adembiere a proprio ruolo, a proprio dovere, non trova altra soluzione che addebitare a passato governo, responsabilità invece chiaramente riconducibile all'attuale esecutivo. Ci chiediamo perché il sottosegretario Vacca, prosegue segretario, mostrando tra l'altro be' scarsa conoscenza della questione, abbia ritenuto di ragionare di iniziative altre e non della possibilità, doverosamente praticabile, di un percorso di fatto sancito dalla legge Ovidio, approvata lo scorso 29 dicembre 2017 a fine legislatura. Perché sia la sgradevolissima sensazione che Ovidio non sa da fare? Pronta la risposta del meet-up amici di Beppe Grillo. Tanto per chiarire, spiega il meet-up, i danari oggi rivendicati non giunsero a destinazione a causa di spiegabili ritardi che comportarono lo scadere dei tempi utili, fissati in due mesi dall'approvazione, per la composizione di magnifici dieci superesperti delle questioni ovidiane. Come mai questo comitato bipartisan, con un nuovo contratto destra-sinistra, chiedeva una soluzione definitiva alla complessissima realizzazione del comitato e dell'organismo per il quale sono stati richiesti i fondi e non lo ha fatto? Oggi si accontenterebbe di prendere i soldi buttandoli in un museo, rinunciando a quanto di articolato conteneva il progetto per i beni della comunità? Come mai tutti così concordi oggi, dopo che hanno taciuto per due mesi, gennaio e febbraio 2018, aspettando le nuove elezioni politiche senza nulla fare? Come mai istituire un nuovo museo quando ce ne sono tre che cadono a pezzi? Come mai pretendere oggi quei soldi, a tempo scaduto, ipotizzando legittime procrastinazioni in base a date surrealisticamente attribuibili alla morte di Ovidio? Si domandano i pentastellati. Il governo non lascia speranze, ma non chiude le porte al confronto, visto che già domani potrebbe esserci l'incontro a Roma. La sensazione è che, come si presenta ora la statua di Ovidio, riscano di trasformarsi in un bel pacco i fondi del bimilenario. Ora la politica di Palazzo San Francesco, altro consiglio urgente, capigruppo chiamati a raccolta, pronta la lettera. Per il prefetto. Nuova chiamata a raccolta per i capigruppo consigliari che dovranno esaminare la richiesta di consiglio comunale straordinario e urgente presentata ieri dai consiglieri di minoranza che intendono accorciare i tempi e spingere i piedi sull'acceleratore rispetto alla richiesta presentata dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che ha chiesto un consiglio. Entro la fine del mese, il tempo di avviare le consultazioni con i vari gruppi consigliari. Ma la minoranza non intende aspettare ancora altro tempo, ritenendo che il primo cittadino ha già avuto 20 giorni di tempo per ascoltare e analizzare la situazione politica. La richiesta di consiglio comunale è urgente e straordinario e nelle mani dell'ufficio di presidenza, che sarà riunita domani dalla Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio e probabilmente per la giornata di giovedì si terrà la conferenza dei capigruppo. Sto ascoltando telefonicamente i capigruppo per concordare una data che è ancora da fissare. Per domani però esamineremo la richiesta presentata dalla minoranza come ufficio di presidenza, conferma la Presidente Di Marzio. Nel frattempo è pronta anche la lettera per il prefetto Giuseppe Linardi, predisposta ieri sera in un summit della minoranza, abbozzata dal vicepresidente del Consiglio Comunale Fabio Ranalli. L'opposizione contesta la convocazione dell'ultima seduta di assise civica, celebrata solo per le comunicazioni del Sindaco. Secondo i consiglieri non sussisterebbe requisito dell'imprevedibilità. Sarà la Prefettura ora a valutare se il regolamento comunale è stato meno rispettato, mentre il Sindaco comincia le consultazioni per cercare di trovare un'altra maggioranza rispetto a quella uscita dalle urne, che non esiste più, come da lei ha messo. E intanto Fabio Pingue, il consigliere senza etichetta, così si è definito, a rapporto, avanti sul Mona, apre il giro delle consultazioni. Facciamo il punto. Con il rapporto dal Sindaco Anna Maria Cassini, il primo cittadino inizia dalla sua maggioranza le consultazioni a Palazzo San Francesco, dopo il discorso pronunciato nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, dove ha messo il fallimento del progetto civico denominato Noi sul Mona, e concepito dal consigliere regionale Andrea Giorosolimo, inaugurando il nuovo corso amministrativo che vede l'apertura a tutte le forze politiche. Questa mattina è partita la PEC dal gabinetto del Sindaco, indirizzata a tutti i gruppi consigliari, dove la Cassini chiede sostanzialmente la disponibilità a un confronto da concordare e stabilire volta per volta. Nessun calendario ufficiale, visto che siamo a sul Mona, e non si tratta di consultazioni istituzionali. Il primo ad essere audito è stato il capogruppo di avanti sul Mona, Fabio Pingue, che in una recente intervista a Onda DG aveva dichiarato di non dar più l'appoggio incondizionato alla maggioranza di cui faceva parte, formalmente e sostanzialmente. Valuterà volta per volta in Consiglio, in base ai temi, non senza far mancare le sue deduzioni alla proposta presentata dal Sindaco, ma dovrà anche decidere in queste ore se mantenere o chiedere la revoca dell'assessore di riferimento in giunta. Sarà un consigliere senza etichetta, né di maggioranza né di opposizione, stando almeno alle sue ultime dichiarazioni. Ho chiesto a tutti i gruppi la disponibilità per un confronto, fa sapere il Sindaco che proprio sull'argomento avea fatto il mea culpa nello speciale di Onda DG, auspicando risfatare il mito che la ritrae nell'immaginario collettivo come un Sindaco che non sta al confronto. Per la circonvalazione occidentale, da anni gli alberi non vengono potati, la protesta dei residenti che danno Trigiglio. Residenti in via circonvalazione occidentale a Sulmona lamentano la mancata potatura delle piante che numerose si trovano all'altezza del staccamento dei vigili del fuoco ed in prossimità del vicino parcheggio. Proprio in quel tratto di strada, le piante non potate da anni presentano molta ramificazione da abbondante fogliame, tanto da costituire una sorta di galleria verde. Il problema è vecchio, dicono i residenti. La mancata potatura crea notevoli difficoltà. Ma infatti in caso di maltempo, soprattutto con raffiche di vento, rami spezzati, fogliame, sono un po' dovunque. Spesso ci accumulano anche sui tetti delle case. Esiste la possibilità concreta che i rami più grossi spezzandosi possano provocare danni alle auto in transito, alle abitazioni e anche ai passanti. I rami arrivano molto in basso, abbiamo potuto constatare, tanto da impattare contro eventuali automezzi furgonati che portano via rami piccoli e fogliame, ma potrebbero impattare anche contro qualche ramo un po' più grosso, con le conseguenze che è facile immaginare. Ci siamo più volte rivolti alle autorità comunali, sollecitando la potatura delle piante, ma senza risultato, lamentano i residenti. C'è stato detto che al taglio delle piante si sono opposte organizzazioni ambientalistiche, ma noi non vogliamo il taglio delle piante. Ribattono i residenti, convinti come siamo che le piante hanno una funzione importante, non solo estetica. Noi vogliamo soltanto che vengano potate. La potatura infatti giova alle piante stesse e può eliminare gli inconvenienti lamentati. Giriamo pertanto la protesta a chi di dovere. E ora i sociali, abilitando la diversità con questo motto, l'Associazione Aias ripropone il Servizio Civile Nazionale. Barbara Delle Monache. Abilitando la diversità, questo è il titolo del progetto del Servizio Civile Nazionale, rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni da Aias Ollus. I volontari avranno modo di conoscere le diverse abilità, relazionarsi con i pazienti e le loro famiglie, maturando importanti ed utili esperienze, anche per un futuro lavorativo nelle due meravigliose strutture, il centro di urno e il centro residenziale di prossima apertura, realizzate proprio dalla Ollus via Torrone 45C, dove sarà possibile anche ricevere informazioni. Per la presentazione delle domande, invece, si potrà rivolgere al centro servizi volontariato in via Gramsci entro venerdì 28 settembre alle 18. E torniamo ora a Introdacqua, dove, come sapete, il sindaco Terenzio Dicenzi ha gettato la spugna. Abbiamo raccolto le prime reazioni in piazza. Sentiamo. Prime reazioni dell'Introdacquese alle dimissioni del sindaco Terenzio Dicenzi. C'è chi se lo aspettava perché la notizia era nell'aria, vista la difficile situazione economico-finanziaria, chi invece sperava che una diversa soluzione si poteva trovare, come quella del dissesto finanziario. In paese in queste ore non si parla d'altro, dalla piazza arrivano dure condagne agli amministratori, mentre per i più equilibrati non si tratta di una buona notizia perché le dimissioni del sindaco rappresentano un colpo duro per il paese. No comment, no, no comment. No, 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 che devo reagire. C'è incompetenza politica e amministrativa. Certamente non è una bella cosa, però che dobbiamo fare? Sì, sì, beh, certo. No, mi dispiace perché introdacque non dovrebbero succedere queste cose. Un paese così bello, così... è strano. Ah, così siamo arrivati. Mi dispiace tanto. Un bel paese, il borgo più bello d'Italia. È sempre un male per il paese. Se non... Eh sì, il primo cittadino. Penso che sia così, ma non lo so. Se dimetti, se io non vado. 50 anni dalla doc del Montepulciano d'Abruzzo, un altro cin cin a Sulmona. Gaetano Trigili. A Sulmona, nel palazzo dell'Annunziata, si è svolto un evento importante per la produzione vitivinicola dell'intera regione Abruzzo. Montepulciano d'Abruzzo, le radici del futuro. 50 anni del vitigno che ha cambiato la storia di una regione. Questo è il titolo dell'evento. Organizzato dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo e dalla delegazione cittadina dell'Accademia Italiana della Cucina per festeggiare i 50 anni della concessione del marchio DOC di Montepulciano d'Abruzzo. Un appuntamento importante ha affermato il delegato di Sulmona, coordinatore territoriale dell'Accademia Italiana della Cucina, Gianni Damario, per celebrare un anniversario significativo per il prodotto simbolo dell'Abruzzo, il Montepulciano. È uno dei vini più noti e più nobili di tutta l'Italia. Il Montepulciano ha identificato un territorio e su questo fatto noi ci scommettiamo molti. Durante la mattinata Federico Perrotta, showman abruzzese, ha condotto la conversazione con Nicolo D'Auria, presidente del Movimento Turismo Vino in Italia, Gianni Damario, coordinatore territoriale dell'Accademia Italiana della Cucina, Rocco Pasetti, enologo e presidente d'Acvino, Leonardo Seghetti, docente e esperto enogastronomia, Marcello Spadone, chef stellato del ristorante pescarese La Bandiera, Antonello Maietta, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier e Mimbo D'Alessio della Presidenza Nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina. A termine del convegno e lo splendido scenario del cortile del Palazzo dell'Annunziata, è stata offerta al polto pubblico di indentitori una degustazione del Monte Polciano, delle cantine che fanno parte del movimento del turismo del vino. Tutte le varie postazioni abbiamo avuto la possibilità di degustare i prodotti della nostra terra. Da dove venite? Da Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, sulla costa dei Trabocchi. Che vini offrite voi? Questo vino che presentiamo oggi è Panarda, eccolo qui. Questo vino fa un mese di acciaio e poi 18 mesi in botte. È un vino che presenta quindi una bella struttura, molto corposo e sembra anche abbastanza apprezzato sia oggi che comunque durante tutte le degustazioni che facciamo. Il futuro del Monte Polciano? Il futuro del Monte Polciano è nella gioventù. Bisogna che ci si lavori sopra, bisogna che si cerchino sempre nuove iniziative, bisogna che ci si impegni a farlo conoscere e a farlo lavorare bene. Ed ora l'atteso momento della buona notizia del giorno. E' tutto pronto per la seconda edizione di Borgo di Fate. Lo scorso anno sono arrivati in 3.000 a godere la magia di Borgo di Fate, nonostante l'incendio, il maltempo che durante il secondo giorno ha impedito il suo svolgimento. L'interesse registrato e che registriamo ancora, fanno sapere dall'associazione, è tanto Borgo di Fate. Infatti non è solo intrattenimento, non è solo una festa, ma è parte di un progetto più ampio impegnato nel recupero delle tradizioni di Rocca Casale legate al mondo delle erbe, delle fattucchiere, delle fate, di altri esseri magici, insomma un ritorno alle origini. L'8 e il 9 settembre 2018 si svolgerà la seconda edizione, con un programma ampio e ricco nel suggestivo scenario del centro storico di Rocca Casale fino a Castello De Santis, tra miti, leggende, spettacoli teatrali, acrobazie, convenni, musica e prelibatezze. Ovidiana Sulmona, ancora lo sport con il calcio, domenica Alvia il campionato, ma c'è ancora entusiasmo per il successo in Coppa Italia. Domenico Merlingeri. Quando segnano gli under mi fa sempre piacere e comunque vincere è una partita per noi importante, oltre per testare la nostra condizione atletica, anche perché comunque noi le vogliamo vincere tutte e dobbiamo entrare con una mentalità vincente cercando sempre di lottare fino all'ultimo secondo. Quindi sono contento sia anche per il risultato e anche della prestazione dei ragazzi. Queste le parole dell'allenatore dell'Ovidiana Sulmona, Joachim Spina, dopo il successo in trasferta contro la Sportland Celano, grazie al classe 2000 Valerio Coletti che sul punteggio di 1-1 ha trovato il gol vittoria in pieno recupero. Non me l'aspettavo e per questo sono molto contento, però l'importante non è il gol in sé per sé ma la vittoria della squadra. Speriamo che possano arrivare altri gol nel corso del campionato e continuare per questa strada, che è la strada giusta. Ad aprire le marcature era stato Guglielmo Isotti che dopo aver giocato nel match di andata 25 minuti nella gara di ritorno è stato impiegato per tutto il secondo tempo dal tecnico Spina. Sicuramente vincere aiuta a vincere, quindi partire con un successo anche se in Coppa Italia è una cosa ottima. L'affermazione a Celano per 2-1 dopo l'1-1 dell'andata ha permesso all'Ovidiana Sulmona di qualificarsi al secondo turno della Coppa Italia di promozione. Penso che sulle due partite abbiamo sicuramente meritato il passaggio del turno. Abbiamo fatto vedere comunque un'ottima condizione atletica, sono contento. Ora ci concentriamo sul campionato e poi vedremo in futuro l'andamento della Coppa. Domenica prossima per i Biancorossi ci sarà l'esordio in campionato nella trasferta contro la temibile Ortona, reduce dai play-off della scorsa stagione. Ortona è una squadra che negli ultimi anni ha fatto molto bene, che non ha cambiato molto, abbiamo già visto anche in Coppa Italia, comunque ha mantenuto l'organico degli anni passati. Il gruppo ha ripreso a lavorare sodo perché il campionato presenta maggiori insidie. C'è da lavorare perché da domenica inizia il campionato e bisogna affrontare le partite in modo diverso. L'avventura in promozione partirà con la carica per il risultato in Coppa Italia e con gli opportuni accorgimenti tecnici per finalizzare al meglio le situazioni che si presenteranno. Per il momento sono soddisfatto perché gli errori ci sono, ma sono pochi e sono sicuramente corregibili e da analizzare attentamente sulle varie distrazioni che commettiamo durante le partite. Chiudiamo con lo dico al Tg, domande e segnalazioni, curiosità sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo dalla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda Dg. Vediamo allora quali sono stati almeno i principali commenti che hanno segnato questa edizione. Eccoli qua, i fondi del bimillenario ovidiano, alcuni dei commenti che sono arrivati, i fondi dell'anno ovidiano, inutile dire che i progetti li hanno mandati con forte ritardo, ci dice un telespettatore. E poi ancora, inutile parlare di questa maggioranza, una crisi per litigi di poltrone. Quel tratto della circonvalazione è diventato pericolosissimo per il transito dei velicoli alti che devono circolare al centro storico. Ma come si fa? I MUSP dovrebbero avere una contrattualità che prevede l'intero ciclo scolastico e non due mesi dall'inizio dell'anno. Quindi continuate a scriverci sui social, dopo di noi Abruzzo Notizie è il punto. Bene, davvero tutto per questa edizione. Onda Tg torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti voi lascio la buona serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.